La terza artista che ha donato le proprie opere di Cava dei Terreni, Anna Pannariello. Sì, un'artista che ha voluto visitare personalmente il convento, è rimasta entusiasta di quanto è stato restaurato, recuperato e della bellezza del monumento del convento di San Francesco. Ha donato due sculture. Ho donato due opere, sia un vaso che una scultura. Ho scelto una scultura che mi rappresenta in modo totale perché amo il geneseo della vita, mi sono affascinata di Dante. Nel momento in cui entrava in quei vortici e magari spiegava il percorso dell'inferno, io ho dedotto che ogni cosa attraverso questo vortice avvita. Quindi la vita che si fonde attraverso due corpi rigenera poi un'altra vita. La vita che si può generare attraverso un equilibrio che può essere siderale, che può essere cosmo, attraverso tante microparticelle che formano il cosmo. Quindi questa scultura fonde due corpi insieme attraverso questa spirale che poi dà via e dà vita alla fusione, alla nascita. La particolarità di quest'opera è che è stata realizzata con un materiale refrattario, quindi riciclato, e poi automaticamente viene impastato con del polisterolo. In effetti ho voluto dare quella sensazione di tanti piccoli microfori che danno la sensazione proprio di quelle particelle delle quali ho parlato e mi avvicina di più al discorso cosmico. Quindi la fusione per me è cosmica, dà equilibrio tra il siderio e l'essere umano e tra la terra e il cosmo. Il vaso è stato realizzato sempre con la tecnica lucignolo, ha più infornate perché ho soprapposto vari colori per riuscire ad avere degli effetti particolari. Ho realizzato anche con smalti borici che con uno smalto che mi dà la sensazione del verde ramino, un colore che poi è anche vetrese, è molto usato. Mi dà proprio la sensazione sia della contemporaneità ma anche del mare, che è il nostro patrimonio del territorio. Quindi è un'opera che mi ha affascinato e con molto piacere ho donato.